Chi ci passava davanti, arcensi o turisti, non potevano darci un'occhiata perché vi si potevano leggere i dati meteorologici della giornata. Inizialmente grazie a dei bollettini dattilo scritti, in seguito tramite dati forniti da un computer. Parliamo della struttura storica a forma di colonna con abbellimenti tipici del tempo della costruzione che si trova davanti al casino municipale di Arco. Da qualche anno è desolatamente spenta. Niente più dati, niente più cifre indicanti umidità, temperatura e piovosità. Come mai, ci chiediamo? Stessa sorte per la colonna meteo inserita nell'aiola posta più est, con all'interno un termometro ormai logoro dal tempo. Quei manufatti antichi devono essere mantenuti attivi. Riteniamo infatti che per una cittadina come Arco, che punta tanto sugli aspetti climatico-sanitari e sul turismo in generale, lasciarli in abbandono sia un errore e un modo sbagliato di concepire e di fare turismo, nonché, e non da ultimo, di mancata attenzione nel mantenere in ordine le cose pubbliche. Grazie. Grazie. Grazie.